L'Assemblea dei Socii dell'Aquilana Società Multiservizi, la società in house comunale, controllata al 100% dall'ente, si è riunita a Palazzo Fibioni e ha ratificato le dimissioni dell'amministratore unico in carica, Francesco Rosettini, provvedendo subito alla nomina del nuovo amministratore nella persona di Paolo Federico, sindaco di Navelli, che avrebbe così superato i termini per l'incompatibilità. Formuliamo all'amministratore unico Paolo Federico i nostri migliori auguri di buon lavoro, ringraziando l'uscente Francesco Rosettini. Hanno dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore delegato alla società partecipate Carla Mannetti. L'azienda ricopre un ruolo strategico nell'ambito delle politiche comunali e per i servizi al cittadino, con particolare riferimento all'igiene urbana e alla raccolta differenziata. Hanno affermato il primo cittadino e l'assessore. L'amministrazione comunale, attraverso le sue aziende, intende ottimizzare i servizi e razionalizzare i costi, migliorando il livello di soddisfazione dell'utenza. Siamo certi che il nuovo amministratore, persona di comprovata esperienza e con molte capacità, saprà declinare in azioni positive gli indirizzi forniti dagli organi di vertice del comune. Si procederà in maniera celere anche alla nomina dell'amministratore unico della società Ama, hanno concluso Biondi e Mannetti, appena sarà esecutiva la revoca dell'amministratore unico Agostino del Re.